Il Consiglio dei Ministri approva il 25 settembre come data per le elezioni politiche. Il Presidente del Consiglio Draghi ha rassegnato le sue dimissioni al Capo dello Stato Mattarella che pochi minuti fa ha firmato il decreto di scioglimento delle Camere e il Governo resta in carica per il disbrigo degli affari generali. Due coniugi di Putignano di 69 e 66 anni sono morti e la loro nipotina di 7 anni è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto intorno alle 13.30 sulla strada provinciale 81 a Monopoli. A quanto si apprende, tornavano verso casa dopo una giornata di mare. Arrestato 49 anni albanese residente a Galatina per il presunto reato di istigazione a delinquere e apologia, aggravati dalla finalità di terrorismo e dall'uso di strumenti informatici. Ancora insieme per l'informazione in diretta di Antena Sud, come avete sentito nei titoli, sembra essere il 25 settembre, la data buona per le elezioni politiche. È stato approvato anche dal Consiglio dei Ministri dopo che questa mattina il Presidente del Consiglio Draghi aveva rassegnato le sue dimissioni al Capo dello Stato Mattarella. Mattarella che qualche minuto fa ha firmato il decreto di scioglimento delle Camere. Il Governo quindi resterà in carica solo per il disbrigo degli affari generali. Sentiamo. Ho firmato il decreto di scioglimento delle Camere affinché vengano indette nuove elezioni entro il termine di 70 giorni indicato dalla Costituzione. Lo scioglimento anticipato del Parlamento è sempre l'ultima scelta da compiere, particolarmente se, come in questo periodo, davanti alle Camere vi sono molti importanti adempimenti da portare a compimento nell'interesse del nostro Paese. L'assenza di prospettive per dar vita a una nuova maggioranza ha portato a questa scelta per il Capo dello Stato che ha elencato le priorità del Paese visto il delicato momento e richiamato la responsabilità ai partiti in vista delle elezioni che si terranno entro 70 giorni, il 25 di settembre. Scambio di accuse tra i partiti a poche ore dalle dimissioni di Draghi. C'è chi parla di suicidio politico e chi gioisce per l'imminente chiamata alle urne. Per il Ministro degli Esteri Di Maio il governo è caduto per colpa di chi strizza l'occhio a Putin. Questa legislatura arrivata al Capolinea con la crisi che ha colpito il governo conta già le prime vittime nei partiti, soprattutto in Forza Italia che perde pezzi, prima Maria Stella Gelmini, poi Renato Brunetta, entrambi delusi da Silvio Berlusconi. Regna il caos in vista delle imminenti elezioni. Le conseguenze per molti di non avere Draghi Premier si sentiranno a livello internazionale. A tutti quelli che dicono i politici sono tutti uguali rispondo no, noi abbiamo portato Draghi, Conte, Salvini e Berlusconi l'hanno mandato a casa. C'è chi costruisce e chi distrugge, alle elezioni la tocca ai cittadini scegliere. È chiaro che noi saremo dalla parte di quelli che hanno a cuore l'Italia, a chi invece ha voluto lo sfacelo e il disastro si assuma le conseguenze e le responsabilità. La Lega fa sapere di essere già al lavoro per il futuro governo, così come Fratelli d'Italia che da tempo aveva chiesto un richiamo alle urne. Il Partito Democratico raccoglie i cocci di un campo largo, quello con i pentastellati, ormai ridotto in macerie. Non la manda a dire il leader IPF di Maio. Prima si va a votare e meglio è. Non mi alleo con chi ha fatto cadere il governo. Ci sono tante persone di buona volontà che continueranno a portare avanti l'agenda riformatrice di Mario Draghi. Siamo di fronte all'ennesima crisi di governo di questo paese che questa volta vede come protagoniste due persone in particolare, Giuseppe Conte e Matteo Salvini che hanno deciso, dopo aver assicurato sostegno al governo Draghi e all'agenda Draghi, hanno deciso di voler bloccare e colpire l'agenda riformatrice del governo Draghi rispetto ad un momento storico nel quale, mai come in questo momento, stiamo vivendo una situazione inedita economica, sociale, energetica. Il Consiglio del Ministro era un verminaio di veti incrociati e di odi incrociati che non corrispondevano alle esigenze dell'Italia. Siamo convinti che la campagna elettorale consegnerà agli italiani la possibilità di scegliere il loro futuro, scegliere il Presidente del Consiglio, scegliere la coalizione che deve governare l'Italia. Sulla caduta del governo Draghi si sono espressi anche il Sindaco di Bari, il Presidente Anci De Caro, anche il Governatore regionale pugliese Emiliano. Ascoltiamo. La politica, l'avrete capito, è una grande palude nella quale servono dei rambo che si acquattano per non farsi vedere dai coccodrilli. Questa è la politica in Italia. È caduto ufficialmente il governo Draghi. Rassegnate le dimissioni dal Premier a Roma, resta per il momento l'incertezza sul futuro. Coinvolti inevitabilmente sindaci e regioni che dovranno far fronte a diverse problematiche, dai fondi PNRR sino ad energia e gas. Non si sono sottratti all'argomento Antonio De Caro, Sindaco di Bari e Presidente Anci, ed il Governatore regionale, Michele Emiliano. Ieri purtroppo l'hanno fatta gigantesca tutti quanti. Tutti quanti hanno fatto un pasticcio enorme e hanno messo nelle condizioni il Governo della Repubblica e ovviamente anche il Presidente Draghi di doversi dimettere. In un momento in cui, lo dico da Presidente della Regione, ci sono troppe partite, c'erano troppe partite aperte per poter interrompere l'attività di governo. Quindi, nella sostanza, avrete capito tutti come l'hanno capito gli italiani, da destra a sinistra, tutti hanno fatto un atto da campagna elettorale ieri. Rispettiamo le scelte che hanno fatto le forze politiche come sindaci, rispettiamo le scelte che hanno fatto i gruppi parlamentari, ci rimettiamo alle decisioni del Presidente Mattarella. Se si dovesse andare a votare a breve, come sembra, speriamo che ci sia un Governo stabile, indipendentemente dal colore politico del Governo, che possa interloquire con i sindaci, con i comuni che devono dare attuazione a quelle risorse attraverso anche ulteriori semplificazioni delle fasi autorizzative, altrimenti non riusciremo a rispettare quell'impegno di spendere le risorse entro il 2026. Cambiamo argomento, a Bari i disoccupati sono il doppio rispetto al centro-nord, è il dato in peggioramento. Sono i numeri analizzati da CISL durante il Consiglio Generale nel Capoluogo a complicare tutto la politica a singhiozzo a causa della crisi. Siamo a quota 8,1% con il tasso di disoccupazione, un livello che non si toccava dal 2010, ma che continua a mantenere due facce scure persistenti e un'insidia strisciante. Uno su due dei disoccupati e meridionale se ne contano circa 1.200.000, uno su quattro è giovane. L'insidia, invece, è lo scivolamento persistente della ricerca attiva di un posto di lavoro, la rassegnazione che subentra rispetto alla possibilità di trovarlo. A Bari la situazione si fa ben più grave, con giovani disoccupati che sono il doppio rispetto ai loro coetanei del centro-nord Italia. Situazione che si complica con la politica a singhiozzo nei palazzi di governo a causa della crisi. CISL Bari si ferma a riflettere nel corso del suo Consiglio Generale. Le scelte della politica sono state diverse, sono scelte egoiste, probabilmente calcoli elettorali hanno determinato alcune scelte. Noi oggi dovremmo gestire una crisi nella crisi. Abbiamo la crisi della guerra, la crisi della pandemia, la crisi dell'inflazione, la crisi dei tassi che rialzano e che hanno conseguenze devastanti per il bilancio dello Stato. Ci sono troppi giovani senza lavoro, siamo oltre il 40%, ci sono pochissime donne che lavorano, ci sono mai tantissimi cittadini rassegnati che non cercano più lavoro, ne contiamo tra Bari e BAT 460 mila, sono quasi 70 mila disoccupati nelle due province. Noi dobbiamo guardare a queste persone, dobbiamo guardare con concretezza, e quindi è necessario da un lato andare avanti con il programma di investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Cambiamo ancora argomento, partecipando ad uno dei quattro appuntamenti con autori illustri previsti in questi giorni presso la masseria Lireni di Bruno Vespa, l'ex magistrato Luca Palamara ha annunciato che a breve costituirà un'associazione dal titolo Oltre il sistema, destinata a diventare un vero e proprio movimento politico. Ancora un appuntamento con i forum in masseria a Manduria, a cena con Bruno Vespa, Luca Palamara e in videoconferenza Alessandro Sallusti. Presentato il volume è scritto a quattro mani dalla titolo Lobby e Logge, le cupole occulte che controllano il sistema e divorano l'Italia, magistratura e informazione come presunte leve con i frecci politici per puntare su obiettivi raggiungibili. L'occasione è servita per annunciare l'imminente discesa in politica dell'ex magistrato e membro del CSM. Nei prossimi giorni sarà varata infatti l'associazione Oltre il sistema, destinata a diventare uno schieramento politico. Oltre il sistema rappresenta la voglia di andare avanti su questi temi, di rispondere alle stanze di tanti cittadini che vogliono comprendere questi meccanismi, che da circa un anno e mezzo, negli incontri su varie parti del territorio italiano, hanno avuto modo di confrontarsi, di interloquire, cercando dei riferimenti su temi che riguardano la vita dei cittadini italiani, dall'imprenditore che vede fallire la propria azienda perché non riesce a recuperare un chiedito, a chi ha subito una giusta detenzione, tutti i temi sui quali io penso sia giusto raccontare quello che in qualche modo ha destato l'interesse, cioè un racconto che serva per migliorare, per fare delle forti proposte riformatrici. Tornando al libro, queste le considerazioni di Palamara, che sul palco della masseria Lireni è stato intervistato da Bruno Vespa. Ci sono ancora dei nodi da sciogliere, ci sono storie da raccontare, storie da raccontare per migliorare quello che non ha funzionato nei rapporti della politica e della magistratura e all'interno della magistratura. Questo per dare una voce che squarci in qualche modo il velo di ipocrisia che spesso ha caratterizzato il racconto sul nostro mondo. Terrorismo e propaganda jihadista restato un albanese di 49 anni da tempo residente a Lecce. L'indagine portata avanti dalla Digos è stata svolta su input della DDA. Avrebbe diffuso sui propri profili social, Facebook e Instagram, foto e video inneggianti all'ISIS. I video, alcuni contenevano dei sermoni, venivano registrati in lingua araba, ma con sottotitoli in inglese per aggiungere quante più persone possibili. Soprattutto chi si avvicinava alla cultura islamica. E poi foto, commenti, post, storie contro lo Stato italiano e la religione cattolica. In alcuni casi avrebbe perfino mostrato la bandiera dello Stato islamico con l'accusa di stigazione per delinquere e apologia aggravate dalle finalità di terrorismo e dall'uso di strumenti informatici. È stato arrestato Astrid Tasani, 49enne albanese residente a Galatina. L'attività di indagine coordinata dal Servizio per il Contrasto all'Estremismo e Terrorismo Esterno dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione ha preso avvio nel 2018 dopo una segnalazione del comparto Intelligence. L'albanese, residente da tempo in Saletto e con un permesso di soggiorno di lunga durata, avrebbe instaurato nel contempo rapporti con elementi di rilievo del terrorismo internazionale già emessi in indagini di settore condotte all'estero durante l'operazione che ha portato anche all'esecuzione di un'altra misura cautelare nei confronti di Giuseppe Antonica, 29enne galatinese, estraneo agli ambienti del radicalismo islamico per detenzione legale di arma da fuoco e reati inerenti agli stupefacenti, è stato sequestrato materiale informatico su cui venivano effettuati ulteriori approfondimenti investigativi. Nel caso del 29enne si è arrivati attraverso alcune intercettazioni, dialoghi con il 49enne in cui si parlava del possesso di una pistola e dello spaccio di maniuvane Ashish. La Procura della Repubblica ha ottenuto dal GIP la custodia cautelare per i due ore e domiciliari con braccialetto elettronico. Si tratta di un'operazione che con un'eventuale condanna costituirà un unicum per il territorio leccese. Naturalmente le indagini andranno avanti, naturalmente l'interesse del momento era in frenare il soggetto individuato e ritenuto responsabile delle contestazioni che la Procura della Repubblica di Lecce gli ha in questo momento fatto. Nel web abbiamo rilevato, nell'ambito delle relazioni amicali, dei soggetti di interesse che non sono presenti in questo territorio. Peraltro lui ha anche condiviso numerosi sermoni attribuibili a imam da un profilo importante, rilevati in attività illecite in altri paesi. Rappresenta un unicum questa attività di indagine nella misura in cui nella provincia di Lecce non era stato mai effettuato un arresto per reati afferenti al terrorismo. Questo è un elemento importante, figlio di un'attività realizzata bene, complessa, strutturata. Si incentiva, si può, attraverso lo strumento del web, arruolare, addestrare o comunque condizionare persone che sono, ripeto, collocate in ambiti spazio-temporali, spesso distanti. Questo è un successo da questo punto di vista perché l'attività di questo soggetto andava in questo senso fermata. Una collezione di centinaia di beni culturali costituita da reperti archeologici, statue, dipinti, beni ecclesiastici, archivistici e librari ritrovati a seguito della morte di un facoltoso collezionista del Barese è stata sequestrata dai finanzieri di Bitonto con i carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Bari. Si tratta di 350 reperti archeologici, ceramici in terracotta e in bronzo di produzione appula risalenti al III e IV secolo a.C. Altri 80 reperti in vetro, metallo e avoreo provenienti dal Mediterraneo orientale risalenti al II millennio a.C. I militari hanno individuato i legittimi proprietari, tra quelli diversi privati per i dipinti, trafugati a Roma, Genova e Bologna, la Chiesa per i beni ecclesiastici e lo Stato per i reperti archeologici. Cambiamo argomento con il rinnovo del drappo della bandiera, il trentasesimo storno di Gioia del Colle al suo nuovo comandante. Cerimonia di avvicinamento questa mattina tra il colonnello Vergallo e il collega Pomiato. Grazie infine a tutto il personale del trentasesimo storno. Quello che abbiamo fatto, lo abbiamo fatto e raggiunto grazie a voi. Vedete, questi momenti di cambio permettono di fermarsi e di riflettere, cosa che non facciamo tutti i giorni. Di pensare a tutto quello che abbiamo fatto, avremmo voluto fare e siamo riusciti a realizzare. Un colonnello Antonio Vergallo, visibilmente commosso, ha salutato le donne e gli uomini del trentaseiesimo stormo caccia di Gioia del Colle lasciando il comando al collega Massimiliano Pomiato. Nelle scorse ore la cerimonia di avvicinamento alla presenza delle più alte cariche militari istituzionali. Alla cerimonia ha fatto seguito anche il rinnovo del drappo della bandiera di guerra del trentaseiesimo stormo. Il colonnello Pomiato, nel prendere il comando del trentaseiesimo stormo di Gioia del Colle, ha così ringraziato il suo predecessore ed espresso quella che sarà la mission del suo comando. Ecco, profondo orgoglio, che assumo il comando di questo prestigioso del padre, la quale non è la sua storia, non ci chiamo numerosi momenti. Sono conosciuto che tutti i mesi abbiamo trovato un po' di aceto l'altra, ma sono convinto che continuerebbe a ripostare il carattere, orgoglio, efficienza, che vi ha fatto il distinto negli anni. 90 operazioni di soccorso in mare e 627 persone salvate, tra loro 90 migranti. Il bilancio relativo all'attività della direzione marittima di Bari del 2021, resi noti in occasione del 157esimo anniversario della fondazione del corpo delle Capitanerie di Porto. 157 anni di Capitanerie di Porto e guardia costiera, senza dimenticare anche l'importanza delle attività annuali del settore. Anche a Bari, città importante in tal senso, la ricorrenza ha un grande risalto. Al circolo della Vela riunite diverse autorità e a fare il punto della situazione è l'ammiraglio Leone. Oggi celebriamo i 157 anni di costituzione del corpo delle Capinerie e guardia costiera. Lo facciamo ovviamente anche a livello locale, tutte le direzioni marittime lo fanno. Noi in Puglia siamo felici di celebrare questo evento, che non solo è un evento che ci fa sentire orgogliosi di servire il paese e questo mare, di questo straordinario paese, ma consente anche di dire un grazie a tutti i ragazzi della Guardia Costiera, i ragazzi e le ragazze della Guardia Costiera, sia a livello nazionale che a livello locale. I mille uomini che ho l'onore e il privilegio di dirigere qui in Puglia, danno tutto quello che possono per questo mare, per la sicurezza di questo mare, per dare sensazioni di sicurezza e di rispetto anche verso il mare che ne ha tanto bisogno. Soddisfacente è anche il giudizio sul lavoro sin cui svolto. Quello che conta è la percezione che i cittadini siano contenti di quello che facciamo. Il nostro target è il mare, la sua sicurezza, la sua tutela, la cura che dobbiamo avere verso il mare e ovviamente il cittadino che da noi si aspetta questo e non altro. Maggiori controlli e un adeguamento delle zone da vincolare con il DASPO e quanto emerso dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, svoltosi presso la Prefettura di Brindisi dopo le recenti aggressioni compiute da baby gang e danni di adolescenti. Un potenziamento dei controlli interforse, soprattutto nelle ore di maggior affollamento di giovani, una più serrata applicazione del DASPO in determinate aree oggetto d'attenzione e in cui si verificano più frequentemente episodi di violenza e un tavolo tecnico per affrontare con maggiore efficacia la situazione d'emergenza. E' quanto concordato nel corso del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica convocato dal Prefetto Carolina Bellantoni anche su sollecitazione del Sindaco di Brindisi Riccardo Rossi all'Ordine del giorno i numerosi casi di aggressione e danni di adolescenti da parte di altri minorenni per le vie del centro. Il vertice si è svolto all'indomani del provvedimento del questore di Brindisi a Nino Gargano che ha disposto il cosiddetto DASPO Willy nei confronti di un quindicenne protagonista di un pestaggio ai danni di altri suoi due coetanei all'interno di un punto di distribuzione bibite H24 nei pressi di Piazza Vittoria. Il ragazzino, identificato attraverso le immagini di videosorveglianza, è stato denunciato per lesioni personali alla Procura per i minori di Lecce. Non sono stati ancora identificati i suoi complici né gli autori degli altri pestaggi, almeno tre, avvenuti nella stessa zona negli ultimi mesi. Una situazione molto preoccupante per le famiglie in cui figli adolescenti che passeggiano in centro nelle ore serali corrono il rischio di essere aggrediti proprio nell'area che dovrebbe essere più sicura. A questo proposito dovrà essere eventualmente rivalutato l'ambito di applicazione del DASPO che secondo l'articolo 3 del regolamento comunale prevede di non potersi avvicinare a meno di 300 metri da municipio, duomo, lungomare, da via del mare sino alle sciabiche, stazione ferroviaria, corsi principali, tribunale, ospedale e cimitero. Estradizione per il salentino Antonio Amato considerato uno dei cento latitanti più pericolosi oggi l'atterraggio a Roma dopo la cattura del mese scorso in Spagna. Era considerato uno dei cento latitanti più pericolosi dopo la condanna nel maggio scorso, l'arresto e il mese dopo Vincenzo Amato, il salentino fermato sulle coste dell'Andalusia nel mese di giugno ricercato dal 2016 e atterrato presso l'aeroporto di Fiumicino con un volo proveniente da Madrid scortato dal personale del servizio per la cooperazione internazionale di polizia Interpol Ad attenderlo nella capitale, oltre a questi ultimi, vi erano anche gli agenti della direzione centrale anticrimine e della squadra mobile di Lecce Al salentino è stato notificato un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla procura della Repubblica presso la corte d'appello di Lecce per una condanna a 19 anni di reclusione L'arresto di Amato, originario di Scorrano, è giunto al termine di una complessa attività di indagine coordinata dalla direzione distrettuale antimafia leccese e svolta in collaborazione con le polizie spagnole e gli investigatori Interpol Inizialmente scappato in Grecia, l'attitante si è rifugiato alcuni mesi dopo nella regione a sud della Spagna dove è stato rintracciato in casa di una donna con la quale conviveva Tramite continui appostamenti e pedinamenti, il mese scorso è scattato il blitz e il 45enne è stato fermato mentre faceva rientro a casa Per lui grava ora anche una misura cautelare in carcere che lo vede indagato perché è ritenuto nell'ambito dell'indagine svolta nel mese di maggio dalla squadra mobile di Milano e coordinata dalla DDA del capoluogo Lombardo responsabile di un traffico internazionale di cocaina Al termine delle procedure di estradizione Amato è stato accompagnato presso il carcere di Viterbo dove nelle prossime ore sarà ascoltato dai magistrati Ci sono degli aggiornamenti relativi all'omicidio del 17enne Francesco D'Augelli avvenuto a San Severo negli scorsi giorni Il 16enne presunto assassino chiamò il fratello della vittima per dirgli che lo aveva accoltellato mostrando la mano insanguinata Nuovi particolari emergono a seguito dell'interrogatorio del 16enne Nero confesso dell'omicidio di Francesco Pio D'Augelli è avvenuto lo scorso 18 luglio in Via Lucera a San Severo Vieni a prenderti tuo fratello, l'ho appena accoltellato portalo in ospedale E' il contenuto della videochiamata che il giovane ha fatto al fratello della vittima subito dopo aver colpito il 17enne con un fendente mortale al fianco sinistro Un passaggio che l'indagato ha ribadito durante l'interrogatorio di convalida del fermo tenutosi davanti al GIP del Tribunale per i minorenni di Bari Nella circostanza il 16enne ha sostanzialmente confermato la confessione resa al PM martedì pomeriggio quando si è costituito in questura a Foggia aggiungendo il particolare di questa videochiamata in cui avrebbe inquadrato la propria mano insanguinata Il momento dell'omicidio sembra essere la gelosia della vittima per alcuni messaggi che la fidanzatina si era scambiata mesi fa proprio con il 16enne il quale ha affermato che tra lui e la fidanzatina di Francesco c'era stato solo uno scambio di messaggi via social e di non avere mai pensato di intraprendere una relazione con lei Al termine dell'interrogatorio il PM ha chiesto che il 16enne rimanga in carcere mentre i difensori dell'indagato hanno chiesto l'esclusione dei futili motivi e la riqualificazione dell'accusa in omicidio preterintenzionale anziché quella attuale di omicidio volontario Il GIP si è riservato di decidere nelle prossime ore e intanto si attendono i risultati dell'autopsia sul corpo del ragazzo Risultati che sono giunti proprio qualche minuto fa appunto il giovane è stato raggiunto da una sola coltellata che ha reciso la vena orta sarebbe bastato una distanza di appena un centimetro il ragazzo si sarebbe salvato Altra tragedia questo pomeriggio nel primo pomeriggio attorno alle 14 sulla strada provinciale 81 che collega Alberobello alla selva di Fasano in territorio di Monopoli due coniugi di Putignano di 69 e 66 anni sono morti e la loro nipotina di 7 anni è rimasta gravemente ferita A quanto si apprende il nonno che era la guida di ritorno dal mare avrebbe perso il controllo del mezzo una opel agila forse a causa di un malore improvviso finendo fuori strada e schiantandosi contro un muretto a secco La moglie sarebbe morta sul colpo mentre il marito è deceduto in ospedale a Putignano La bambina si trova attualmente ricoverata in reanimazione al policlinico di Bari in gravi condizioni e in coma farmacologico a causa delle numerose fratture e lesioni I rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente sono affidati ai carabinieri che al momento non hanno rilevato segni che facciano ipotizzare la presenza di altri mezzi coinvolti nell'incidente Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Putignano per estrarre i corpi dalle lamiere e il personale sanitario del 118 per soccorrere i feriti Ancora una tragedia questa volta in ospedale a Manduria un medico è morto di infarto durante una visita era in servizio al reparto di medicina ed è morto appunto dopo essere stato colpto da un infarto mentre stava visitando un paziente sono risultati inutili i tentativi per rianimarlo da parte del personale sanitario presente il medico lascia la moglie e tre figli è intervenuto il capogruppo regionale di Fratelli d'Italia Agnazio Zullo c'è un'oggettiva carenza di medici ma altresì oggettiva la carenza di modelli organizzativi adeguati in questa sanità di Emiliano è sconcertante l'ipotesi avanzata secondo la quale la morte del collega medico possa essere collegata lo stress correlato al lavoro sconcertante sì ma resta un'ipotesi plausibile se è vero che il collega era al lavoro da 24 ore Cambiamo argomento si è svolta stamattina a Manfredonia la conferenza stampa di presentazione del servizio sperimentale di trasporto pubblico marittimo Manfredonia Isole Tremiti finanziato dalla regione Puglia e di cui è soggetto attuatore la provincia di Foggia Finalmente si parte per le isole Tremiti da Manfredonia Sì, è un servizio che abbiamo auspicato e spinto con forza un grande ritorno questo collegamento Manfredonia-Tremiti sarà di grande aiuto alla comunità locale di Capitanata e di Tremiti come spinta per le attività turistiche e supporto per questo servizio importante Presentato presso il molo ponente del porto commerciale di Manfredonia il servizio sperimentale di trasporto pubblico marittimo Manfredonia Isole Tremiti finanziato dalla regione Puglia e di cui è soggetto attuatore la provincia di Foggia All'incontro hanno preso parte tra gli altri il vicepresidente della regione Puglia Raffaele Piemontese il presidente della provincia di Foggia Nicola Gatta i sindaci di Manfredonia e delle isole Tremiti Gianni Rotice e Giuseppe Calabrese ed i rappresentanti del raggruppamento di imprese a giudicatario del servizio Gargano Metro Marine Un grande strumento il collegamento via mare con le Tremiti unisce due realtà le Tremiti e Manfredonia è un'offerta in più per i turisti si riesce anche ad apprezzare durante la navigazione quella che è la costa e soprattutto possiamo dire che questo territorio inizia a fare quelle sinergie giuste guardando il mare partendo dal mare che possono servire in futuro io sono convinto che l'idea di un territorio unico mettendo anche altre realtà mattinata vieste peschici può contribuire ad avere sempre un'offerta più importante per valorizzare queste aree si ricongiunge un cordone bellicale che ci ha sempre uniti le isole Tremiti a questa città che è stata sempre un nostro punto di riferimento quindi è giusto che si riprenda un colloquio che si era lasciato un po' di tempo fa in modo serio e fattivo visto anche che oggi si riesce ad avere un colloquio anche con una società di navigazione abbastanza seria in materia quindi vediamo che succede telegiornale si ferma un attimo ci rivediamo dopo la pubblicità ben ritrovati con l'informazione di Antena Sud le foto che state vedendo sono relative a un incendio che è scoppiato nella tarda mattinata a Cagnano Varano dove le fiamme hanno già bruciato 30 ettari di bosco il fuoco a quanto si apprende minaccia un'area di circa 100 ettari a ridosso della strada statale 89 da terra stanno operando una trentina di unità tra personale di servizio antincendio boschivo dell'ARIF l'agenzia regionale per l'irrigazione e le attività forestali i vigili del fuoco i carabinieri forestali la protezione civile i volontari dal cielo un velivolo drago dei vigili del fuoco ha effettuato fino ad ora una decina di lanci un fireboss oltre 20 lanci di acqua si attende l'arrivo di un canader da Fiumicino cambiamo ancora argomento presentata a Bari la nuova sede della scuola di formazione post lauream è stata inaugurata al quartiere di Apigio di Bari la nuova sede di Mete scuola di formazione post laurea manageriale fondata tra le varie da Politecnico di Bari Confindustria Puglia e Ance Baribat la struttura che accoglierà gli studenti dei numerosi master in partenza è stata visitata anche dal sindaco De Caro e dal governatore regionale Emiliano l'obiettivo è naturalmente quello di garantire una formazione tecnica di alto livello e sinergie continue tra mondo universitario ed imprenditoriale non è un'attività filantropica non lo facciamo soltanto per bontà per i nostri giovani ma lo facciamo soprattutto per far sì che queste forze possano trovare occupazione in Puglia rimanere in Puglia formarsi in Puglia e dare forze e vigore alla Puglia diverse anche le testimonianze di successo di studenti che hanno concluso il master e che subito si sono inseriti nel mondo del lavoro ai docenti inoltre il compito di presentare i plus dei nuovi corsi guardi come Ance abbiamo dato naturalmente essendoci Spegea essendoci Esplivia essendoci Confindustria abbiamo dato il nostro apporto alla costruzione di questa scuola ponendo un obiettivo fondamentale che è quello di regalare uso il termine giusto cioè mettere in condizione di offrire corsi gratis per la pubblica amministrazione noi riteniamo che la formazione principale la debbano fare all'interno delle pubbliche amministrazioni perché senza questo il PNRR non potrà decollare se le pubbliche amministrazioni non si rinnovano non si sveltiscono non si ringiovaniscono soprattutto nelle procedure amministrative noi avremo un PNRR fermo Andiamo a Taranto partecipazione record di sindaci per la ripartenza dell'assemblea di area vasta ben 24 sindaci su un totale di 29 hanno preso parte all'assemblea di area vasta tenutasi nell'aula consigliare di palazzo di città a Taranto si tratta di una partecipazione record per la ripartenza di questo organismo istituzionale che presiede a progetti di interventi di interesse condiviso e diffuso tra le municipalità della provincia abbiamo preso atto dell'insediamento dei nuovi sindaci eletti a giugno ha spiegato il sindaco della città bimare Rinaldo Melucci ma soprattutto abbiamo ripreso le attività interrotte ormai diversi mesi fa sul tavolo dunque oltre a questione di carattere procedurale anche il Just Transition Fund risorse per le quali l'ente ha già manifestato interesse attraverso progetti definiti ho invitato i colleghi inoltre sottolinea Melucci a valutare la possibilità di lavorare insieme alla riperimetrazione dell'area sin che coinvolge anche altri comuni della provincia Un polo culturale nel cuore della città vecchia Fondazione Puglia ha deciso di riqualificare e restaurare Palazzo Starita sulla muraglia di Bari per un nuovo progetto Un polo culturale con museo e un caffè letterario oltre agli uffici dell'impresa strumentale Puglia Cultura e territorio di Fondazione Puglia in meno di due anni con gli interventi di riqualificazione e restauro architettonico Palazzo Starita avrà una nuova vita Fondazione Puglia dopo l'acquisto nel 2016 ha deciso di realizzare un progetto ben preciso all'interno dell'immobile nel cuore di Bari da sempre celebre per la sua meridiana sulla facciata inizia così la nuova fase storica per Palazzo Starita da sempre considerato uno dei più importanti beni architettonici della città di Bari con una posizione unica che affaccia contemporaneamente su Via Venezia piazza mercantile piazza del Ferrarese completando architettonicamente lo storico palazzo del sedile Era un immobile privato e quindi Fondazione Puglia l'ha acquistato per aprirlo a tutti i cittadini poi lo racconterò a tutti i cittadini baresi e ci auguriamo anche che continui il flusso turistico corposo che oggi abbiamo 18 mesi 18-19 mesi e completeremo iniziamo da subito stiamo già attrezzando la cantierizzazione con il montaggio della gru dei ponteggi e quindi siamo operativi da subitissimo quindi accelereremo al massimo per ridare alla città questo palazzo splendido Restituire alla comunità un altro luogo che possa dialogare con i musei esistenti alle spalle del palazzo del sedile che fu il primo teatro della città prima ancora che esistesse il Piccini il Petruzzelli e poi ancora il Margherita e quindi in questo miglio degli spazi culturali più che dei teatri sempre più fiorente noi non possiamo che offrire la massima collaborazione nel nome dell'assessorato alla cultura inaugurato il nuovo parco urbano di Trigianello è stato realizzato con i fondi del bando periferie è stato inaugurato la presenza del sindaco della città metropolitana di Bari Antonio De Caro il parco urbano di Trigianello realizzato con i fondi del bando periferie nell'ambito del progetto periferie aperte il progetto finanziato per un importo complessivo di 700 mila euro ha contribuito a riqualificare la frazione di Trigianello a pochi chilometri dal centro cittadino di Conversano migliorando la qualità del decoro urbano rendendo funzionali gli spazi pubblici e potenziando la sicurezza della zona per questi interventi abbiamo vinto un bando un bando nazionale siamo arrivati al primo posto l'area metropolitana di Bari siamo riusciti a finanziare tanti interventi per realizzare spazi per la socializzazione come questo spazi per tornare a fare comunità parchi giochi area verde sono dei luoghi dove le persone possono stare insieme Trigianello per noi è una frazione cui siamo particolarmente legati per cui all'epoca l'abbiamo candidata al bando delle periferie insieme nel progetto complessivo voluto dalla città metropolitana di Bari che tra l'altro si è classificato al primo posto in Italia per cui siamo orgogliosi di essere stati di aver contribuito fattivamente al successo di quel progetto oggi vedere realizzato questo luogo così interessante così aggregante così ben fatto ci riempie di soddisfazione mi emoziona anche un po' devo dire la verità in conferenza stampa è stato presentato il bilancio della Lupe Servizi nel 2021 un utile di 920 mila euro Presidente tutti gli obiettivi raggiunti imbarba anche alle critiche degli scorsi anni ancora Lupe Servizi mira a diventare leader come società partecipata a livello regionale devo dire che le critiche servono ovviamente per crescere se sono critiche costruttive non le accettiamo io accetto di tutto quindi poi rispondo anche nel senso devo rispondere con i risultati i risultati sono quelli che per tre anni questa società è riuscita a mantenere un trend elevato oggi siamo a circa 950 mila euro di utili più ovviamente tutti i debiti che abbiamo pagato che sono circa 700 mila euro vuol dire che siamo sulla buona strada continua quindi il percorso di fuoriuscita della società partecipata al 100% dal comune di Lecce dalle acque tempestose della crisi aziendale che nel 2018 la portò a un passo dal fallimento evitato solo grazie all'attivazione della procedura concordataria Lupe Servizi ha avuto la forza di rafforzarsi e consolidare le proprie competenze e referenze senza la necessità di grandi investimenti ma puntando secondo il presidente sulle risorse umane disponibili un positivo andamento della gestione 2021 conferma l'efficacia dell'azione amministrativa confermano proprio in conferenza stampa il recupero di adeguati livelli di produttività testimoniati dall'andamento dei risultati di esercizio degli ultimi anni perché questo succede dal primo giorno ho detto non perché io conosca le mie capacità ma perché ero convinto che la Lupe avesse all'interno grandi professionalità bisogna soltanto riorganizzare il sistema il servizio far capire che c'è la volontà di poter crescere siamo 214 dipendenti che lavorano su tutti i servizi noi riusciamo a coprire tutti i servizi non solo quello che vedete in città ma anche quello che non vedete all'interno degli uffici e questo mi preme sottolinearlo sono 15 servizi sui quali noi svolgiamo quotidianamente la nostra giornata ma la cosa più bella è che ormai riusciamo ad orasse immediatamente a intervenire su qualsiasi richiesta dell'amministrazione comunale domenica torna il Palio di Taranto con la gara alle 19 a seguire una serata di gala con musica e moda diretta su Antena Sud Siamo alla seconda tornata del Palio di Taranto il torneo dei rioni sui gozzi a due remi appuntamento domenica 24 luglio si percorrerà tutto il periplo dell'isola antica con arrivo nel canale navigabile una competizione sportiva ma anche uno spettacolo che richiama da sempre i tarantini e i turisti al quale si potrà assistere dagli spalti naturali di Corso Due Mari ma anche in diretta televisiva sul canale 14 di Antena Sud 8 equipaggi si sono aggiudicati la griglia di partenza partiremo alle 19 19.30 dovrebbe finire la gara e quindi decretare i vincitori che sono in lista per la regata dell'8 maggio sempre di questo anno la premiazione quest'anno sul canale navigabile proprio con una festa abbiamo chiamata festa del mare dove vedremo anche una bella sfilata di moda accompagnata da musiche dal vivo questo connubio tra la marina militare il palio di Taranto le attività marinare la città di Taranto è sempre più stretto sempre più connesso come abbiamo visto con 6GP come abbiamo visto con il campionato italiano di Aquatron quindi il castello è un po' sempre di più l'agorà di questa città e noi siamo orgogliosi di manutenerlo di mantenerlo e di presentarlo ai tarantini anche ai tanti turisti che arrivano anche con stranieri che arrivano con le navi da croce c'è l'obbligo non c'è il piacere di ringraziare Francesco Sivanetti per essere stato uno dei pionieri della promozione dello sport proprio sul mare stiamo programmando una serie di eventi soprattutto un cartellone per arrivare a fare proprio una festa del mare una settimana dedicata a tutti gli sport di mare per l'anno prossimo questa edizione del telegiornale termina qui a tra poco per lo sport rimani connesso scarica gratuitamente l'app di Antenna Sud trovi tutte le news i programmi in streaming on demand e le pagina social non c'è l'abbia non c'è l'abbia non c'è l'abbia grazie